Significativo incontro ieri sera nella chiesa di San Sebastiano di Adrano fra i rappresentanti delle confraternite cittadine Edino Laudani, il biancavillese recentemente eletto presidente della Confederazione delle Confraternite per l'Arcidiocesi di Catania. Toccante il momento in cui Laudani, che è anche governatore dell'Arcidiocesi di Adrano, si sono uniti in un momento di preghiera e devozione innanzi al simulacro del Cristo alla Colonna, esposto per l'occasione senza i lunghi capelli. Un incontro di fratellanza, quello del presidente Laudani, che ha avuto parole di grande rispetto per le storiche confraternite Adranite. Grazie a tutte le confraternite di Adrano che appunto mi hanno ospitato in un momento che io reputo assolutamente conviviale. Siamo stati insieme ma abbiamo anche parlato chiaramente di quello che è il futuro delle nostre realtà perché a questo dobbiamo soprattutto pensare. Di certo Adrano ha una realtà confraternale molto importante e interessante perché oltre agli aspetti che sono più legati alla tradizione, alla religiosità che da sempre è legata alla fede quindi dei confrati, Adrano negli ultimi decenni ha dato anche dimostrazione a tutte le confraternite della Diocesi di un importante esempio di unione, l'appartenenza tutte ad un tavolo comune in cui si possono affrontare i problemi ma si può soprattutto anche fare un percorso di vita confraternale comune. Questa sicuramente sarà anche una delle iniziative che proveremo dalla Confederazione ad esportare un po' in tutte le altre realtà confraternali senza chiaramente per questo imporre alle varie comunità uno schema preconfezionato. E' un'idea buona, un'idea che vuole chiaramente fare sempre unione e chiaramente dove c'è unione c'è Gesù Cristo quindi benvenga a questo tipo di esperienza.